Buongiorno ragazzi e bentornati su questo nuovo video. Oggi ti voglio far vedere come poter utilizzare il tuo CarPlay o il tuo Android Auto senza fili. Quindi se hai una macchina con uno stereo già dotato di CarPlay o di Android Auto, mi raccomando questo è essenziale, la macchina deve essere già dotata di questo strumento, però quello in dotazione, quello di fabbrica può solo essere utilizzato attaccando proprio il tuo smartphone direttamente con il cavo. Beh questo potrebbe essere scomodo, potrebbe comunque influire sulla durata della batteria del telefono perché avendolo sempre in carica ovviamente non gli fa benissimo, attacca e stacca mille volte durante la giornata e di conseguenza ti faccio vedere uno strumento che puoi andare ad acquistare proprio per poter trasformare il tutto e renderlo senza fili. Prima di continuare il video ti chiedo di mettere un like, di iscriverti al canale e di accendere la campanellina. Questo serve a te per rimanere informato su tutti i nuovi video che pubblicherò e il like mi aiuta sicuramente a crescere, mi supporta e mi aiuta a farmi vedere da sempre più persone. Quindi per favore a te non costa niente ma per me significa tantissimo. Inoltre se hai voglia di andare a visitare anche gli altri miei canali social te li lascio qui a schermo in modo tale da poter vedere anche altre cose e altri video che faccio al di fuori della parte di YouTube. Se invece già mi segui ad esempio sull'account TikTok vedrai che ho fatto un video simile a questo dove ti mostravo uno strumento simile che faceva esattamente lo stesso lavoro. La versione che ti sto facendo vedere oggi è la versione aggiornata del 2023. Anche se in realtà essendo gli ultimi giorni dell'anno non so se questo video uscirà ancora dal 2023 oppure saremo già nel 2024. Comunque è lo strumento più aggiornato che attualmente ad oggi c'è di questa versione di CarPlay senza fili. Il prodotto di cui ti sto parlando è il Garling Kit. Ti metto ovviamente come sempre link del prodotto che ti riporta direttamente ad Amazon in descrizione. Tra l'altro se vuoi acquistarlo di lì a me arriva una piccolissima percentuale del tuo acquisto quindi un altro modo per supportarmi e a te non costa assolutamente di più. Ma la primissima cosa che ti voglio dire è una cosa un po' simpatica di come è arrivato questo prodotto. Allora tu sai benissimo che ho insieme a Paolo dei canali offerte di tecnologia. Questo prodotto ci è uscito nel bot non l'ho pubblicato nel gruppo perché ce n'era solo uno usato quindi l'ho acquistato direttamente per me stesso senza pubblicarlo nel gruppo. Se non sei ancora iscritto al gruppo puoi farlo. Si chiama Technology Sales oppure sul secondo gruppo Home Track Now che parla di tutta la parte di casa e della vita quotidiana. Comunque a parte pubblicità, autopubblicità dei gruppi di offerte è uscito questo prodotto warehouse quindi seconda mano con l'extra 30 e come descrizione del prodotto c'era ottime o ottime o buone condizioni. L'ho preso io normalmente acquisto tanto su warehouse e seconda mano. Ho detto va bene prendiamolo vediamo in che condizioni arriva. Ragazzi è ancora sigillato. C'è una cosa assurda non è la prima volta che mi capita sul seconda mano. Praticamente l'ho pagato meno della metà però è nuovo cioè risulta come seconda mano ma è un prodotto nuovo sigillato proprio di fabbrica e quindi lo andiamo ad aprire adesso insieme. Andremo poi sull'auto o meglio sul furgone perché sono in ufficio e vediamo proprio come si installa, come si configura e se funziona veramente bene come vi sto dicendo. Io ho la versione precedente sul furgone in questo momento molto piccolina bianca. Mi trovo bene devo dire. Voglio vedere se questo ha qualche funzionalità in più. L'ho preso per un altro mezzo e vediamo un po' insieme come funziona. Vedrete che la configurazione è veramente alla portata di tutti. Il mio personale funziona sempre provato con la parte Apple. Non ho telefono Android su cui far la prova in questo momento. Lo proveremo col mio iPhone e vediamo se si comporta bene come CarPlay. Apriamolo, vediamo cosa contiene questo kit e questa confezione. Perfetto, come ho voluto vedere era sigillato. Bellissimo ragazzi, queste cose è bellissimo. Quando compri pochissimo ed è nuovo tanta roba. Allora devo dire è un pochino più grande della versione che ho io che praticamente è bianca come ti dicevo ma è più grande perché volendo questo oltre ad attaccarlo alla macchina puoi comunque avere il cavo sia per attaccarlo ugualmente via cavo se c'è qualche anomalia e sia per poter ricaricare il telefono. La versione che ho attualmente io ha solo esclusivamente l'aggancio che lo attacca la macchina però poi il cavo non lo puoi più collegare. Quindi direi molto più completo rispetto al precedente. E poi ti danno ovviamente i due cavettini uno con usb c usb c e l'altro usb a usb c. Comunque è lo stesso piccolissimo. Direi abbandoniamo tutto il set fotografico e proviamo a spostarci direttamente sul furgone. Ovviamente la qualità delle riprese sarà inferiore perché non posso spostare tutto il set fuori e vediamo come si installa e soprattutto se riusciamo a farlo in maniera molto semplice molto smart molto veloce. Andiamo. Allora eccoci sul furgone questo qua bianco piccolino quadrato come vi dicevo è quello che ho attualmente installato su questa macchina per farvi capire c'è un pochino di differenza tra uno e l'altro. Adesso non facciamo altro che mettere questo all'interno proprio del cavetto dove normalmente attacchiamo il nostro telefono per farlo vedere sullo stereo carplay. Accendiamo il furgone quindi ci sarà un pochetto di casino. In teoria lui dovrebbe auto vedere il carplay quindi ci si aprirà come se avessimo un telefono attaccato ma con le istruzioni per poter andare a collegare proprio il nostro nuovo telefono. Quindi apro il carplay del veicolo. Nel carplay del veicolo è proprio fatta vedere questa schermata. Noi andiamo a collegarci in bluetooth con il nostro telefono. Ci colleghiamo. Lui riconosce il mio telefono ed ecco qua che sta già connettendo la parte di carplay. E se tutta la procedura va a buon fine come puoi vedere ho il telefono staccato. C'è solo il dispositivo collegato. Però c'ho carplay che può tranquillamente funzionare. Non so a voi ma a me questa soluzione piace tantissimo. Da quando l'ho adottata sul furgone mi trovo benissimo e soprattutto non ho più rovinato la batteria del telefono. Col vecchio iphone nel giro di neanche un anno l'avevo distrutta perché praticamente io muovendomi tutto il giorno era un continuo stacca attacca con sto cavo e la batteria si era completamente fulminata. Ma detto questo vorrei evitare già subito i commenti che sotto diranno eh ma non serve l'apparecchio in più. La macchina ce l'ha di default. Ah tutte le macchine nuove già ce l'hanno. Ragazzi non è vero. Non tutte le auto hanno la parte senza fili di carplay. Assolutamente. Ormai tantissime macchine nuove ce l'hanno integrato a livello di cavo. Quindi se io attacco il telefono via cavo. Alcune fortunatamente le hanno già fatte uscire anche senza fili ma non sono assolutamente tutte. E comunque ci sono tantissimi stereo come ad esempio dove lo andrò a installare io in questa macchina dove magari è una macchina un po' più vecchia. Ho installato lo stereo un po' più nuovo che mi supporta anche il carplay ma assolutamente non è supportato senza fili. Quindi è sicuramente un'ottima alternativa dove non è di fabbrica dove non è già con l'acquisto dell'auto. E ovviamente essendo un componente elettronico dove ha bisogno di una potenza una connessione e quant'altro ragazzi non costa due lire. Quindi evitiamo anche i commenti. Eh ma figurati se spendo così tanti soldi per avere semplicemente per non attaccare il cavo. Fate voi assolutamente. È un articolo che io consiglio caldamente proprio perché come ti dicevo prima non ho voglia di spendere ogni anno soldi per andare a sostituire la batteria del telefono. Ma soprattutto se riuscite ad acquistarlo o in sconto e tantissime volte durante gli eventi Amazon lo è. L'abbiamo già pubblicato diverse volte sul canale technology sales. O soprattutto come in questo caso che lo trovate usato magari qualcuno l'ha provato non si è trovato bene l'ha ridato lo pagate veramente veramente poco. Io in questo caso specifico l'ho pagato mi sembra 38 euro. Quindi scusate se potrebbe non valermi la pena. È vero quando è a prezzo pieno costicchia. Però se riuscite a trovare un'offerta lo tenete d'occhio fidatevi che è un ottimo acquisto. Bene se questo video ti è piaciuto ti richiedo di mettere like e ci vediamo prestissimo in un nuovo video ma soprattutto fammi sapere qui sotto che cosa pensi di questo prodotto. Ciao! Ciao!